segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora in diretta noi dovremmo avere in questo momento le immagini del vigile del fuoco che stanno operando nel cantiere come abbiamo capito ci sono ci sono dei dispersi e queste sono le immagini che ci arrivano in questo momento dal da da firenze sinceramente diciamo non riesco a distogliere il pensiero dal dato ci sono cinque persone a rischio vita è una strage quindi non me la sento di dire nulla ma insomma l'immagine di questo pilone è agghiacciante quindi in generale il ragionamento che veniva fatto è